11 imprese piccole e mid-cap del Made in Italy hanno partecipato al primo workshop di co-design di Sace, il gruppo assicurativo finanziario italiano specializzato nel sostegno al tessuto imprenditoriale. Obiettivo sviluppare insieme alle aziende soluzioni per sostenere attività e progetti di crescita. Tra loro anche miscela d'oro o impresa messinese del caffè con il 50% di export. Il direttore finanziario Giuseppe Merlino. In questo momento il supporto di Sace è sicuramente fondamentale per ridurre quella che è l'incertezza che viviamo inevitabilmente sui mercati esteri soprattutto. Veniamo fuori da un periodo pandemico che è stato assolutamente devastante per tutte le nostre abitudini. Speravamo di poter ripartire con maggiore serenità e con maggiore convinzione. Invece ci ritroviamo nuovamente in uno scenario del tutto incerto. Quello che può fare Sace e che ci aspettiamo da Sace è che riduca questa incertezza e supporti le aziende che lavorano sul mercato estero come la nostra. Sace, gruppo controllato dal Ministero dell'Economia, non solo sviluppa strumenti a sostegno dell'export ma supporta gli investimenti sul mercato domestico e dà garanzie per progetti green. Come sottolinea Cristiana Ciani, risk manager di SACMI, Imola tra le 11 imprese a Milano per il primo workshop co-design. La nostra relazione con Sace va indietro di circa di più di 30 anni quindi è una vera e propria partnership. Siamo utilizzatori di molti dei prodotti Sace, da credo fornitore, bias credit, garanzie green e via dicendo. Quindi spassiamo un po' in tutti quelli che sono i prodotti Sace e siamo clienti molto esigenti e siamo sempre alla ricerca di più supporto, nuove soluzioni e quant'altro. Il progetto co-design proseguirà nei prossimi mesi per continuare a costruire con le imprese servizi su misura per la crescita in Italia e all'estero. Sono momenti di confronto che portano a conoscenza di altre realtà, di similitudini ma anche di differenze e quindi si sono creati tavoli di discussione che mi auguro che porteranno a nuove idee, nuove soluzioni, più supporto alle imprese.